La terra girò per renderci più vicini, girò sul suo asse e su di noi finché finalmente ci ricongiunse in questo sogno eterno. Perché la sensazione che ho avuto quando ti ho conosciuto è che fosse molto più di un incontro casuale, quella sensazione impossibile da spiegare in cui senti che inconsciamente hai trovato il tuo posto nel mondo, sì, al tuo fianco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.